E' terminato l'incontro al Voltini tra Pergolettese e Pistoiese, i Toscani si sono imposti per 2-0. E' la quarta sconfitta con questo punteggio per la Pergolettese in quattro incontri ufficiali, due di campionato e due di Coppa Italia. Il primo tempo è equilibrato, anche se i Toscani hanno fallito un calcio di rigore con Falcone, il suo tiro al dischetto è parato da Ghidotti. Poi nella ripresa la Pistoiese è passata in vantaggio con un colpo di testa di Gucci al diciassettesimo e nel finale, dopo che Russo aveva fallito un'occasionissima per il pareggio, ha raddoppiato con lo stesso Gucci. Pistoiese 2 per Pergolettese 0. Pergolettese 0.